lo sto sverniciando tutto il telaio single speed con questo perché non mi piace ho cambiato idea voglio fare un colore a tinta unita un colore più sobrio diciamo meno colori fluorescenti la forcella la lascerò sempre arancione però ora vedo un tinta unita su un grigio grigio scuro ecco il risultato finale della sverniciatura ci ha voluto un po è comunque vedere sui bordi un po di vernice c'è rimasta però tanto non dà fastidio questa perché una volta tanto riverniciato dato il fondo non si vede più niente belli questi righi spazzolati anche con sopra il trasparente che si tutte le spazzolature non è male però visto che ai fans piace completamente verniciato quindi lo faccio completamente verniciato come dicono i fans eccolo qua mi sono aiutato con questa per fare i bordi sulle saldature ma mi è stata anche molto utile questa spugna questa spugna abrasiva ci ho fatto tutto il telaio e poi essendo morbida sono arrivato anche sui punti un po più difficili questa l'ho data dopo che ho passato lo sverniciatore questo lo sverniciatore che ho usato ho dato col pennello vedete ancora c'è la vernice sciolta perché questo scioglie la vernice eccolo qua sverniciatore neutro usate la mascherina come ho fatto io quando lo usate perché ha un odore molto tossico eccolo qua ragazzi il risultato finale tutto spazzolato a mano per sverniciarlo l'ho sverniciato tutto perché non mi piaceva fatto a pezzi ora lo vernice ro completamente tutto tutto il telaio completamente vernice ro non più a tratti perché mi piaceva tenere qualche punto di alluminio che si vedeva comunque ci ho ripensato lo vernicio completamente a tinta unita eccolo qua ragazzi il risultato finale il fondo che si deve asciugare il fondo aggrappante per alluminio ho usato quello per infissi verniciatura completamente fatta con la bomboletta a spray quindi un lavoro che può fare qualsiasi persona anche uno che non è un professionista della verniciatura venuto veramente bene però ricordo questo il fondo lo farò poi a tinta unita questo è quello che ho usato bomboletta della ma cota che l'ho scoperta veramente da poco e sono eccellenti veramente professionale la vernice vedete come attacca bene non fa le collature ovviamente bisogna anche avere un po la mano eccolo qua il mio telaio single speed completamente verniciato con il fondo ragazzi facciamo il riepilogo non lo voglio più verniciare multicolore sfumato come lo avevo fatto nei precedenti video voglio fare una cosa un po più sobria voglio optare per una tinta unita quindi chiedo ai fans che tipo di colore usare io avevo pensato una cosa semplice sul grigio metallizzato grigio chiaro grigio scuro uno di questi colori vi ricordo che però la forcella la lascio completamente arancione quindi ragazzi un colore che si abbina con l'arancione quindi avevo pensato un bel grigio o grigio scuro o argento grigio scuro che si abbina bene con la forcella arancione e poi delle scritte sempre sul florescente quindi ragazzi cambio di programma tinta unita per il telaio voglio fare una cosa un po più elegantina quindi ragazzi questo video lo faccio perché chiedo ai fans che colore usare ricordo tinta unita che si deve abbinare con la forcella arancione vi aspetto è aspetto nei commenti che colore mi consigliate pollici in su sempre